Ciao a tutti e bentornati! Oggi è il 23 aprile, anche se siamo in quarantena vi voglio dire che oggi è il giorno di San Giorgio. San Giorgio è questo cavaliere fortissimo che uccide il drago per salvare una donna in difficoltà e la tradizione medievale vuole di donare una rosa alla propria donna. Io una rosa non la posso prendere perché i fiorai sono chiusi e siamo ancora in quarantena, ho trovato però un grande cespuglio di rosa canina. Che dite, andrà bene lo stesso? Ci proviamo! Ciao!